Era nell'area da giorni. Ieri il passaggio della consigliera municipale Maria Cristina Masi da Forza Italia a Fratelli d'Italia è stato ufficializzato nel corso di una conferenza stampa. Un incontro a cui hanno partecipato molti cittadini, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, diversi esponenti di Fratelli d'Italia e un nutrito gruppo di uomini, donne e ragazzi di Forza Italia che hanno dato la notizia anche loro di aver seguito la consigliera in questo cambio di casacca in massa. È stato peggio di un divorzio, potrei dire, perché dopo tanti anni ho ricoperto incarichi a livello giovanile, poi sono stata presidente della consulta dei giovani municipio, ho ricoperto l'incarico anche importante di segretario del partito territoriale per tanti anni, consigliere per due consigliature. Il punto è che Forza Italia è diventato, come ho detto io, invece di un partito liberale, un partito feudale. Sicuramente ci sono delle corti, non ci sono le squadre, non si riconosce il valore di chi lavora tra la gente nel territorio tutti i giorni. In più c'è una confusione a livello nazionale che ci mette sempre in imbarazzo con i cittadini. Di conseguenza, insieme a tutto il partito del territorio, perché poi non è il passaggio della Masi, ma è il passaggio dell'intero, del 90% del coordinamento del decimo municipio, abbiamo deciso di aderire al progetto di Fratelli d'Italia che in questi anni è stato più coerente e che ha avuto una presenza nel territorio sicuramente più importante. Io credo che nel momento in cui una classe dirigente non è ascoltata e soprattutto è umiliata spesso nel lavoro che svolge nel territorio, questa classe dirigente ha il dovere di dare anche ai cittadini un'alternativa. Paroli di stima per la collega entrata in Fratelli d'Italia sono state espresse da molti esponenti del partito, primo fra tutti il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. Maria Cristina ha fatto una scelta importante, l'ha fatta direi l'intera classe dirigente di Forza Italia, siamo particolarmente soddisfatti, anche perché Fratelli d'Italia di fatto è un cantiere aperto in questo momento, quindi insomma non si tratta di ospitare semplicemente delle persone che hanno guardato con attenzione a quello che abbiamo costruito nel corso del tempo aderendovi, ma si tratta di entrare e partecipare a questa fase di apertura di Fratelli d'Italia che è già in corso da qualche mese e che è destinata a riservarci sorprese eclatanti nei prossimi mesi. Fra gli ex esponenti di Forza Italia passati a Fratelli d'Italia ci sono fra gli altri anche Tommaso Dannibale, capogruppo di Forza Italia nella scorsa consigliatura, Adriana Vartolo, presidente del Consiglio Municipale dal 2008 al 2013, Ruggero Cametti, consigliere politico del partito di Berlusconi da quasi 20 anni, Luca Zamagni, vice coordinatore dei Giovani e membro del coordinamento romano e Dino Rutigliano, ex assessore di Davide Bordoni.